Amici vecchi e nuovi, soprattutto vecchi, è uscito finalmente Dragon Ball Dime, la prima puntata. Ora, chi segue questo canale lo sa, io sono uno di quei bambini di ormai 40 anni che ha in Dragon Ball ancora oggi il suo manga preferito in assoluto, motivo per il quale ogni qualvolta esce un qualcosa di nuovo afferente al mondo di Dragon Ball, io appizzo le orecchie perché non vedo l'ora. Anche se ormai sono vecchio, domani infatti mi arriva finalmente Sparking Zero e anch'io mi ci posso tuffare. E con questo Daima io ai tempi ho visto solamente l'annuncio quando insomma dissero esce, esce, esce ottobre con il letterone totale tombale e poi ho visto un trailer e mi sono fermato lì. Non ho voluto approfondire, non ho voluto vedere analisi, non ho voluto vedere dichiarazioni, non ho voluto vedere dichiarazioni, niente, niente, niente. Mi sono voluto approcciare a questa nuova serie di Dragon Ball totalmente a occhi chiusi per assaporarmi l'avventura, per cercare di catapultarmi ancora una volta, nonostante la mia veneranda età nel magico mondo che ci ha regalato il nostro Akira Toriyama e soprattutto mi sono voluto godere questo nuovo starting point, diciamo così, di Dragon Ball, sapendo però già di default una cosa che secondo me in molti ancora non hanno compreso e che vale la pena sempre ribadire proprio quando escono cose nuove riguardanti Dragon Ball. Perché tutti i nuovi bondi di Dragon Ball, nonostante quello che noi possiamo dire e nonostante anche questi video, queste opinioni che tutto sommato lasciano il tempo che trovano, non sono per noi bambini di 40 anni e non solo che hanno avuto per loro e per nostra fortuna Dragon Ball ai loro e ai nostri tempi, ma sono per i bambini di oggi, bambini veri che non hanno mai avuto Dragon Ball. Dragon Ball Super lo abbiamo detto mille volte ma vale la pena ripetere nuovamente questo discorso era il Dragon Ball per tutti coloro che non c'erano né ai tempi del Dragon Ball originale e nemmeno ai tempi del Dragon Ball GT e questo Dragon Ball Daima è secondo me il Dragon Ball per tutti coloro che dieci anni fa quando è uscito Dragon Ball Super non c'erano o erano addirittura troppo piccoli per seguirlo settimanalmente o per iniziare a seguire il manga di Toyotaro. Però, però, dobbiamo parlare di Daima brevemente, velocemente per quanto si possa dire da questo primo divertentissimo, divertentissimo episodio perché questa prima puntata, per quanto mi riguarda, è stata molto inaspettata, ecco, inaspettata è il termine giusto è un grandissimo prologo di mezz'ora, in realtà, che però affonda comunque le sue radici e della cosa che io ho apprezzato nel Dragon Ball originale di Akira Toriyama e questa puntata è un grande prologo perché noi capiamo quelle che sono le motivazioni di quelli che probabilmente, quasi sicuramente, saranno comunque i grandi villain o i villain generali della serie e quindi è molto divertente, soprattutto la prima parte di questa prima puntata vedere questi personaggi appartenenti al mondo demoniaco che stanno spiando cosa sta accadendo sulla Terra nel momento in cui arriva al mago Babidi, nel momento in cui ha traviato quello che è il re demoniaco ovvero Darbula, scatenando poi tutto quello che noi sappiamo quindi l'apocalisse sulla Terra, il ritorno di Majin Buu, la distruzione tanto della Terra e quasi quasi anche dell'universo e quindi rivedere all'inizio non solo quella specie anche di riassunto di che cos'è Dragon Ball ma rivedere momenti, scene iconiche, rivedere i nostri personaggi preferiti Goku, Vegeta, Gohan, Krillin, Piccolo, gli stessi Darbula, Babidi, Majin Buu pezzi degli scontri, pezzi degli scontri tra Gohan e Majin Buu a quello che è cresciuto con Dragon Ball e di nuovo a Dragon Ball uno dei suoi fumetti e anche cartoni animati preferiti gli si stringe il cuore però tutta questa prima puntata, tutto questo grande prologo ruota attorno al fatto che questi nuovi personaggi che fanno parte del regno demoniaco di cui fa parte anche lo stesso Darbula a un certo punto si rendono conto di essere loro diventati i nuovi padroni del mondo demoniaco proprio perché Darbula è morto, viene ammazzato, viene magnato da Majin Buu e quindi loro cominciano a seguire proprio con un groppo alla gola tutto quello che succede sulla Terra perché tutto quello che succede sulla Terra potrebbe riguardare anche loro pertanto nel momento in cui si rendono conto che i guerrieri Z uccidono, distruggono o quantomeno sconfiggono Majin Buu loro cominciano ad avere paura che i guerrieri Z un giorno potrebbero arrivare addirittura nel regno demoniaco e quindi potrebbero usurpare il trono di questo personaggio veramente improbabile il nuovo re demoniaco tale Goma il quale dice beh ma abbiamo visto che sulla Terra ci sono le sfere del Drago perché non utilizziamo le sfere del Drago della Terra per esaudire un desiderio far tornare bambini tutti i guerrieri Z di modo che noi non avremmo mai problemi se diventano bambini per noi è facile e quindi la prima puntata è veramente tutta così hai una prima parte dove sembra quasi essere un recappone per farti ritornare nel mood del Dragon Ball che i vecchi conoscono bene e che i bambini magari non conoscono affatto e la seconda parte c'è tutto questo piano astrampalato di questi nuovi personaggi di questo nuovo re demoniaco che va sulla Terra con il fratello di Kaioshin e un vecchio rameciano per rubare le sfere del Drago a Dende fondamentalmente e esaudire questo desiderio e far diventare tutti i bambini è esattamente questo e quindi è bello per questo motivo proprio perché è uno starting point perfetto per chi Dragon Ball magari incredibilmente non l'ha mai visto magari per i bambini che non sanno proprio che cosa sia ma è anche un punto bello per noi vecchi perché fa contenti secondo me più di quanto probabilmente aveva fatto o avevano fatto le prime puntate ai tempi di Dragon Ball Super questa prima puntata di Dragon Ball Dima secondo me fa proprio contenti i vecchi perché si sente il profumo del Dragon Ball che è stato secondo me di nuovo lo ribadisco le scene dello scontro con Majin Bu ridisegnate, rianimate sono proprio impattanti e poi ecco il roster di questi nuovi villain quindi Gomo, questo re Goma Dagesu, Dages il fratello di Kaioshin c'è anche la sorella di Kaioshin sono molto improbabili ma sono improbabili perché sono la versione 3.0 di Pilaf e Sochi cioè strizzano proprio l'occhio a quella roba lì che tutti quanti bene o male conoscono e che tutti bene o male amano Pilaf e i suoi sgherri sono divertenti sono nel lato comico e così sono questi nuovi villain però secondo me funzionano bene almeno in questa prima puntata perché al momento il nuovo re demoniaco Goma quantomeno è un Pilaf che ce l'ha fatta al momento chiaramente sono proprio 30 minuti di leggerezza di brio scorrono che è un piacere quello che io ci ho visto è la funzionalità delle interazioni tra i personaggi ci sono dei momenti piccoli in cui naturalmente cercano di farti venire i lucciconi agli occhi quando Goku parla con Vegeta con Krillin scherzano, ridono, magnano ma sono proprio pochi minuti perché il core della storia sono questi nuovi villain ma anche se tu non li conosci sono stati molto bravi secondo me a farli entrare in sintonia immediatamente tutta la loro improbabilità con lo spettatore che li vede per la prima volta li ascolta per la prima volta li vede interagire per la prima volta e quindi quando finisce la puntata e poi nel vedere tutti i guerrieri Z e non solo che diventano piccoli in realtà le domande non riguardano cosa faranno adesso i guerrieri Z tanto lo sappiamo vinceranno figuratevi però secondo me tu da spettatore vuoi saperne di più proprio di questo mondo demoniaco che ti comincia a essere accennato sembra avere alle spalle una storia vuoi conoscerla più a fondo c'è proprio una storia dinastica alle spalle di re demoniachi di re demoniaci ti viene raccontato che questo vecchio nameciano che sembra uno non capisce un cazzo però poi quando deve fare le cose le fa ha creato le sfere del drago del mondo demoniaco però poi ha messo questi guardiani che sembrano uber potentissimi a guardia delle sfere quindi le sfere del mondo demoniaco non si possono toccare perché per quale motivo quindi uno spettatore lo vuole sapere e poi vuoi scoprire di più di questo vecchio nameciano vuoi sapere di più del perché il fratello di Kaioshin è andato a finire nel mondo demoniaco insomma è una puntata estremamente soddisfacente che ti lascia con molti domande e con molti perché però c'è una spiegazione divertente la spiegazione sui potara una cosa che boh da secoli abbiamo sempre ci siamo sempre domandati e finalmente e qui c'è stata data una pseudo risposta ovvero dentro Majin Buu Majin Buu secerne un gas che fa in modo che l'effetto dei potara diventi reversibile quindi si spiega perché Goku e Vegeta si sono sfusi così come Kaioshin e Kibit si sono sfusi interessante molto carino non vedo l'ora che sia la prossima settimana per vedere il secondo episodio guardatelo anche voi ritorniamo tutti quanti i bambini sono curioso di sapere voi però che cosa ne pensate di questa puntata naturalmente questa era un'opinione molto a caldo mi andava di farla perché lo sapete Dragon Ball ci sono affezionato però sono curioso di sapere voi ditemi voi se vi è piaciuta se non vi è piaciuta cosa vi è piaciuta cosa non vi è piaciuta lasciatemi sempre dando un commentino qui sotto su YouTube oppure sulla mia pagina Instagram sommobuta e se siete arrivati alla fine di questo video hashtag viva ipotara un bacio ciao